Kafka, un fratricidio È stato accertato che l'assassinio fu commesso nel seguente modo. Schmar, l'assassino, si appostò verso le nove di sera, nella chiara notte lunare, alla cantonata, a cui vese la vittima doveva svoltare, nella strada dove abitava, da quella in cui era il suo ufficio. C'era l'aria della notte, fredda, da far venire i brividi a chiunque. Schmar aveva addosso soltanto un leggero abito blu, con la zacchetta anche sbottonata, ma non sentiva freddo, e poi era sempre in movimento. La sua arma mortale, qualcosa tra la baionetta e il coltello da cucina, la teneva snudata, saldamente in pugno. Osservava il coltello alla luce della luna. La lama balenava. Non bastava Schmar, la batteva contro le pietre del selciato, sinché non sprizzavano scintille. Se ne pentiva, forse, e per rimediarvi, la affilava sulla suola del suo stivale, come un arco di violino, mentre, ritto su una gamba, proteso in avanti, tendeva l'orecchio e al rumore della lama sullo stivale e alla fatale via laterale. Come mai tutto ciò veniva tollerato dal possidente Pallas, un uomo che osservava tutto da vicino, stando alla sua finestra del secondo piano? Chissà com'è fatta la natura umana. Col davvero alzato, la veste da camera stretta all'ampio corpo, guardava nella strada, scuotendo la testa. E cinque casamenti più in là, trasversalmente, di faccia a lui, la signora Vese, con la pelliccia di volpe sulla camicia da notte, spiava il ritorno del marito, che oggi tardava, insolitamente. Finalmente si sente suonare, troppo forte per quello che è il campanello dell'ufficio di Vese, e l'eco si diffonde sulla città, perdendosi nel cielo, mentre Vese, il dirigente lavoratore notturno, esce dall'ufficio, ancora invisibile in quella strada, annunziato soltanto dal segnale del campanello, e già il selciato conta i suoi passi tranquilli. Pallas si sporge molto dalla finestra, non vuole che nulla gli sfugga. La signora Vese, tranquillizzata dal campanello, chiude la finestra che tintinna. Shmar invece si inginocchia, non avendo in quel momento nessun'altra parte del corpo scoperta, preme il viso e le mani sulla pietra, dove tutto gela. Shmar arde. Proprio sul limite che divide le due strade, Vese si arresta e si appoggia soltanto con il bastone sulla via che sta per imboccare. È un capriccio. Il cielo notturno l'ha distratto un attimo col suo azzurro cupo e il chiaror dorato. Ignaro lo contempla. Ignaro si passa la mano sui capelli, sollevando il cappello. E lassù nulla si muove per accennargli l'immediato futuro. Tutto rimane assurdamente, imperturbabilmente al suo posto. In sé è molto ragionevole che Vese prosegua per la sua via, ma va dritto sul colpello di Shmar. Vese, urla Shmar, alzandosi sulla punta dei piedi col braccio levato, abbassando con violenza il coltello, Vese in vano attende Giulia. E lo colpisce nel collo, a destra e poi a sinistra, e infine profondamente nel ventre. I talponi, se sgozzati, emettono un suono simile a quello di Vese. Fatto, dice Shmar gettando il coltello, ormai inutile zavorra insanguinata, verso la faccia della casa di fronte. Ah, volutà dell'assassinio! Che sollievo, che esaltazione avete a scorrere il sangue altrui! Vese, vecchia ombra notturna, amico, compagno di bevute alla birreria, che ti stai dissanguando sul fondo oscuro della via. Perché non sei una vescica piena di sangue su cui mi possa seder sopra per farti scomparire del tutto? Non tutto si avvera, non tutti i fiorenti sogni maturano. La tua spoglia greve giace qui, ormai inaccessibile a chiunque. A che serve la muta domanda che tu così poni? Pallas, soffocando tutto il veleno che ha in corpo, compare dietro i due battenti spalancatisi della sua porta di casa. Schmar, Schmar, ho osservato tutto, nulla mi è sfuggito. Pallas e Schmar si misurano con un'occhiata. Pallas è soddisfatto, Schmar non ne conclude nulla. La signora Vese, con ai due lati una gran folla, accorre col viso invecchiato dal terrore. La pellizia si apre e lei si precipita su Vese. Il corpo, vestito dalla camicia da notte, appartiene a lui. La pellizza, che copre come l'erba di un tumulo i due sposi, appartiene alla folla. Schmar contiene a fatica un ultimo impulso di nausea, premendo la bocca alla spalla del poliziotto, che lo conduce via, con passo leggero.